Il progetto nasce dalla comunione di idee e di intenti mia e del Divino Sospiro di Massimo Mazzeo sulla realizzazione di un recital, un recital di Arie, dedicati a Giovanni Paesiello e alla scuola napoletana in genere. E' stato un lavoro di due anni, è stato un lavoro molto lungo e molto interessante dove ho affrontato la riscoperta di partiture totalmente inedite. E' stato bello anche vedere e decimitarmi con musica della quale non sono molto abituato perché sono sempre molto più abituato a cantare Handel o per il repertorio barocco. Quindi questo è stato una grandissima scoperta, mi è stato un piacere. Grazie a tutti.